no dove via che colp asso asso C'è stato da vincere Il torneo? Sì Ma Spino non c'era 300 bui Se fai 5.5 sembra soppostudiato Oddio Oh Non, non, non Vai, vai, vai Vai Oh La scuola Sì DBye Ma non Non Sì No Non è lui è lui è entrato il bastardo perché anzi è venuto prima bastardo a perché mi devo mettere collegare le cuffie il telefono puoi mettermi le toppe cuffie è un bordello il traditore è il vero membro di hk ma perchè giochi senna porco dio ma che cazzo vuoi prociazzo tu sei il vero procio ah che bel tavolo il torneo di sana al gaib tutti che mi coprono chi picco chi picco l'amore di morano la prima volta la torino com'è prendi urgot nasus garen si è un protimo urgot nasus garen klad garen è bannata garen è forte asus contro team o nasus non ti vuole bene abbastanza devo solo scalare il mio jungle mi aiuta su jungle non ho ganga top va bene tu ah no rakhan e trash quanto lo so ora ma mu mu non ne ha skin oppure cosa parlava da mu mu allora io gli ho regalato uno da aspetta ah no mettimo mettimo jungler rakhan mid yasu top o rakhan top è infocato se li sento è trash top mettimo jungle ma mi ha invocato il lo stront che esce dal mio culo dopo aver mangiato la monecenda esce in jungle no lo strontetto è timo attimo il jungle rakhan top l'ho detto giovanni settimana prossima dove si va? ecco dopo vediamo ma insomma hai invitato tommy ma non manzi tong giusto? certo tommy quando vuoi venire ma gli avevo detto a giovanni che avevo fatto il burro quello lì con l'erba e quindi mi volevo ammiettare a casa mia tipo dopo cena quando? in questa settimana ma tu sei impazzito ma scusa ma tu hai detto che i tuoi genitori sono partiti non possiamo prendere la super pizza possiamo fare la pizza possiamo fare la pizza si eh pizza a casa tua e poi burro che male gioheri hai capito questo? show a 300x su open x 2 e c'ha 300 ore in bounty eh è giusto così è giusto è giusto però un giorno alla settimana perchè loro torno un sabato eh eh devi organizzare questo si la vendono una volta e prende a sosse diciamo ora ma se stacchiamo non vengiamo a questi vengono no 30 secondi into a minion 4 però c'è 76% di ora apri 4x eccoli è così che inizia la prima snap call che cazzè ragazzi vieni 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 eccolo c'è 3 c'è 3 aiuto non ci vedo c'è 6 156 attacca Francesco c'è 5 c'è prendescono un attacca si si 4 e 5 4 oial oial ucciso buono fai iallora fai iallora non posso no vinci 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 tutti tutti le ammazzi si 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 la botta è più forte che voi vedriate mai nella vostra vita si che voi vedriate mai c'è 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 pure io su no timo timo bravo non parla però porco tivo cattivo c'è pure io su non parla non parla perché ha messo la schiena wow ma fai la build quella non mi aveva mai preso no perché c'è qua è morto distendi è il fondo di un jeep non so no non è mai non vai non so 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 vinciccio vinci vinci buono vincu vuoi andare valerio? no ti abbiamo quanto sei 5 non so non so non so non so non so non so vero non so non so non so non so non so vincu è giusto, è giusto scusate, ho fatto una sorrida di 3 questo bar è un bar perchè ha fatto tutti questi danni con me anche c'è 4 bot questo vado di stare rotto è sopravvissuto Giorgio andiamo dall'altro io sono 25 amici quindi chi fa tu sotto? buon' notte buon' notte, buon' notte buon' notte, buon' notte buon' notte ho lasciato GOG oppure Ragan Ghost ulti ok che cazzo la mostra? no, non capisco la mostra di più guardate, li ammazzi tutti se non ti prendi quel gol vale, è molto importante sei a su sei a su sei un bot ok mi sto preparando ma questo è solo tre volte botte dai gli stessi 2.000 a me non so fermare Giorgio eh un nasus che ci vuole ho aperto ogni 3 bravo quello dopo no 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 hai paura aiuto a noi pure a quale sta paura? qui alz? non ci posso credere non ci posso credere cosa succede? cosa succede? conto che se viene Yasuo probabilmente muore un'edano è un'edano non ci posso credere che è un'edano E' un po' Ah, la stessa. No! Un like, grid out. Ah, non c'è un red, ma quello è che. non c'è problema Sì, doni Orco Dio, questo qua sembra qua Ma cazzo Come fai a essere la spugna? Tram, è andato in base e è venuto bot Senza dp Ma perché non hai 400 stack? Io ho farmato tutti i minion che accudevano, Francesco Che timo top Ma non so se c'è a morire d'osso Ulta, ulta, ora, ulta, ulta E questo è top Ma che cazzo Vabbè 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 Esima Vabbè Vabbè ma vinciamo, turbo vinciamo ma ecco Gesù muore se aspetta, non esiniamo così è bugato ma perchè non mi fa leal? devi ultare pure il bloccante stavo ultando, facevo io alle ulti e vincevo mi ha fatto leal non l'avete avuto da vent'anni xos non è un po' non è un po' non è un po' pippo 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 devo andare? ancora male? ah non c'è il... allora vabbè il nostro support è top niente, lasciano ah ma ci sa non c'è quando arrivo alla volpe vabbè 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 quando c'è l'oggetto non lo puoi c'era gun vabbè 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 si vale vabbè ma che cazzo di daniela fa? vabbè 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 ovchè il caffè ha destruito un turretto ok un po' il caffè un po' un po' il c'era un po' un po' un po' Grazie. Io non ci vorrei sennare. Oh, oh, vale, ma... Oh, no, non ci vorrei. Mi sono a non dare rilutrini, sono adormi, dunque. E' perchè le blu, vale? La botina non piace. Raga, posso venire? No, pusha, pusha, prende un'altra cosa. Ok. Quattrocento e cinquanta stacchi, non c'ho 2.1. Dillo ancora adesso non può, Francesco. Eh? Quattrocento e cinquanta stacchi, ho tantissimi, in diciotto minuti, dove sono tutti eh? Quattrocento e cinquanta stacchi. Ecco, che 3 c'era una mid, non si vanno, possono salire. Rendo sui carretti. Quelli che perdono le 3. Quindi arriva lo stesso. Quattrocento e cinquanta stacchi. Oh, è stato qua. Oh, c***o. Ma faccia ci vanno? Vai tu, vai. Vai, vai. un flash, lo devo spegnere pure no, vabbè avevo trash a salvarlo, non posso dire stop jobes barone mid no, vabbè portato qua, bravo aiuto aiuto no, vabbè direi, 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 direi direi, 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 direi direi, direi, direi ciao a tutti ciao 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 vabbè, direi, direi mh mh ai Non so l'herald ragazzi Questa è un animale Ma come hai fatto triple up? Asso 10, ho fatto doppia coppia al flop, uno c'aveva asso k e l'altro c'aveva 4.1 di colore Poi ho vinto nullino con asso asso e poi ho perso quella mano con kk l'ala di vista Ho perso il minimo però, potevo perdere molto di più Tante cose si, linea di massima si Cioè non c'è tanto E' un bot o è? Oh 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 Due bot, due bot ragazzi Previamo, previamo 4 bot, ma perchè sono sempre su di me? Ma è un bot, ma è un bot, ma è un bot Inizio Perchè? E' perso Perfetto PORQUI orto Sì, quanti giorni avrei fatto? 343 La tardiva è aperta fino al domani Poi non chiude stanotte? No Fino al domani alle 9 Non so di più una stanza Togmau somewhere Se splitti sempre la join Non è vero perchè mi beccano sempre che non fate niente Non è vero, ma è proprio veloce No Vinciate, vinciate! Qua l'hanno capito che è il polo da spennare Ma che aveva? 2 e 9 Che c***o Capito quello che c***o che ha? Sei time Speriamo ne prenda altre Stai zitto Valeria? Oh no credo non c'è me la trovo Ma è strì No vabbè Sto giocando solo comunque Ma guarda dov'è Valeria No figato Valeria mi ha ignorato tranquillamente Sto giocando Tra 1 up è regolato Non capisco Valeria voglio dire qualcosa Chi mi ha deciso di non parlare? Mummurì non si capisce Sì c***o Vedete come mi hai chiamato penso che c'è la scossa No Col porco ci va Posso prendere il carretto? Sì c***o Sì c***o Sì c***o Sì c***o Sì c***o Non ci credo Non ci credo Non ci credo Guarda c***o Guarda c***o C***o Lo vedo lo vedo Fai solo uno? Nooo Quello tanto rilancia Lo rilancia C***o Ma ci siamo assoluti No Sto da cleanse No Ma qua la boolta Non mi fai Un mo' Unc***o Che cosa è giunto? Ma tornata con me Che ha fatto un ulti Il suo rischio Un c***o Un po' no puoi fare la banca fai 9 che viene tp top raganna vai picchia 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 vado a questo vabbè non c'è salto io ho ghost out e ult out altri 3 minuti fermi vai scegliere una cosa più buona ah e quelli c'hanno sempre le sunmers prima l'ho fatto con kogmao ha flash out e ha fatto ghost e ha fatto cleanse quest'altro ha flash out pure che cazzo devo fare ogni volta così robot francesco o giochi o giochi a pole sto giocando coglione che cazzo vuoi lui non ha ancora flash alzì forse si ho go easy amara amara non ho il carry non ho il carry mazzate gli altri pillate, pillate nemmi 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 gog io non posso difendere gog ti scioglio a terra non ammazzate il tronio lucino io ho trollato fortissimo vabbè ma so se non c'è il drago il drago porto blu no comunque non sono troppo danglore eh io c'ho un sacco di anima vabbè che insomma prendiamo prima mida e ne andrà madonna ma comunque è la finale del cesto vabbè regnoli no ultimamente vabbè posso non viaggiare raga ho 3 secondi slovato 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 stavo bravando questi forse io sono uccido guardiamo vediamo vision, vision, vision slogato, slogato con Teemo perci, scusate Iaso, Iaso morto Teemo, Teemo ti vici, guys fate Elder Elder, Elder come ha venduto? paglia questo, non lo ho visto oggetto all'ultimo, morte di 5 miracolato non morite io sono huge io pure, non battiamo più io sono huge, ragazzi tank, tank vai, continuiamo non vinciamo, sai? no, non vinciamo, facciamo i miei decimi cochi 10 secondi e poi nessuno altri andiamo, 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 andiamo non vingete, raga, non morite troviamoci, troviamoci sono 2 up l'arri campo fate, fate la torre fai, che sei ho fai, fai, fai fai, fai fai, fai fai, fai fai, fai 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 Vabbè buonanotte Ciao Ciao ragazzi Buonanotte 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 Buonanotte